Il play puro è la priorità assoluta. L'ultima speranza si chiama Luca Palmiero che con la Delfino ha già giocato in B tre stagioni orsono ed è proprio in B che vuole restare il regista campano di proprietà del Napoli. L'aspirazione più che legittima da parte della classe 96, reduce da quattro campionati cadetti consecutivi, bisognerà probabilmente aspettare gli ultimi due o tre giorni di mercato. In assenza di proposte da club di B, Palmiero avrebbe già dato la parola al Pescara. Il piano B è Carlo Derisio in uscita dal Bari, cui il centrocapista originario di Vasto è legato sino al 30 giugno 2023. Si tratterebbe anche in questo caso di un ritorno. Ieri mattina Sebastiani ha contattato il DS del club pugliese Ciro Polito, tra l'altro ex portiere Biancazzurro, da gennaio a giugno 2007. Si è trattato per ovvi motivi di un semplice sondaggio. Naturalmente per caratteristiche l'uno, Palmiero, esclude l'altro, appunto Derisio. Dal Bari in uscita anche Andrea Del Rico, calciatore offensivo, grande protagonista della promozione in B dei Galletti, può agire sia da mezzala che da trequartista. Al momento è un sogno, costi fuori budget. Come interno piace non poco Vincenzo Garofalo, che in questa sessione il Brescia ha acquistato dal Foggia. Per ora però il classe 99 non è in uscita dal club Lombardo, che a centrocampo è piuttosto corto. A Foggia Garofalo è cresciuto tantissimo grazie a Zevan. Per caratteristiche sarebbe l'ideale. Mezzala di struttura, contrasto e inserimenti. Garofalo a corsa e cattiveria agonistica. Meno incursore di Tenkorang, ma più votato all'interdizione. A proposito, l'italo-ganese della Cremonese probabilmente resterà al nord in pressing Entella e Novara. Gavioli della Regina chiuso con la Propatria. Nessun riscontro su Mazzocco della Cittadella. Il centrocampista ex Padova è stato sondato solo un mese e mezzo fa, quando però il classe 95 non era in uscita dal club Veneto. Ora le cose sono cambiate, ma nel frattempo il Pescara ha valutato altri profili. Da noi contattato il DS della Cittadella Marchetti ha confermato di non aver sentito più i dirigenti biancazzurri. Attacco entro le prossime 24-48 ore. La risposta di Marco Sau. Nessun contatto invece con Udo. Ai dettagli con Lavellino. Vergani piace, ma al momento è la 21enne scuola intera di proprietà della Salernitana. Non vuole scendere in C. Infine Veroli destinato al Cagliari. Cambierà la formula da prestito neroso con diritto di riscatto a prestito con obbligo di riscatto. A Palena.